Ha planeggiato in tutti i sensi, in tutte le reti dei servizi, delle infrastrutture, viabilità provinciale, comunale, consortile, privata, i campi, anche le case, anche le case, poche infrastrutture, anche le case. Adesso dobbiamo costruire, come abbiamo visto, abbiamo attraversato il treno, abbiamo visto quello che ha causato il danno prima del 2-3 di maggio, poi del 16-17. Una situazione grandissima, però adesso dobbiamo ricostruire.